Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio studio. Finalmente stringo tra le mani questo bellissimo pedale, l'attesissimo 808 fatto da Vemuram in collaborazione con Ibanez. Eccolo qui. Questo pedale in realtà non è un vero clone dell'808, ma mette insieme l'esperienza di Vemuram insieme al classico suono del TS-808, Ibanez. A differenza del classico 808, questo pedale qui ha una gamma di frequenze molto più ampie, quindi conserva le basse frequenze e ha quel classico mid boost che è tipico dell'808. Classiche regolazioni, anche se non c'è scritto, abbiamo gain volume e tono, mentre sul retro abbiamo due trimmer che possono regolare la quantità di bassi e la quantità di saturazione del pedale. Se lo apriamo all'interno troveremo chiaramente il vano per la batteria e troveremo dei piccoli switch che ci permetteranno quindi di regolare la saturazione del pedale. Sono curiosissimo, sentiamolo subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.